E benvenuti in questo nuovo video di AppScape 3. Bene, andiamo nel livello lunedì 16, incubo in Palme Strait. Satami, ti sto inviando a questo congegno. È una rete acquatica, puoi usarla per nuotare sott'acqua. Fai qualche vasca alla stazione di addestramento. No, non mi interessa. Allora ragazzi, se volete vedere BuzzBuddy's Nostalim, come fare la serie, la farò... Appena avrò caricato tutti i episodi di Call of Duty Monofor 2, che rimangono circa, mi sembra, solo uno. Qui, se volete vederlo, BuzzBuddy, vi consiglio di vedere la serie di Call of Duty, quando potete. Grazie per la tensione. Ok, vediamo questa panoramica. E allora, non si ferma più. Che orrore. Fermati. Fermati. Non puoi scappare alla cattura. Brava. Signa. Ok, vediamo se sono signi e quali palazzi. Di qua, questa strada è molto scura. E' spaventosa. E' spaventosa. Oh cavolo, devo combattere contro un mammute robotico. Direi di attrezzarmi. Non mi fai paura. Mi bastono. Anche se... In questo momento mi stanno imbastonando. Aiuto. Il mio amore è che tutto sotto la trasformazione mi incideva. Per un velo. Carica. Sconfitto. Ah, non erano solo una signa dentro il robot. erano due. Beh, è meglio. Appena finisco il livello più in fretta. Che paure delle gioche volanti. C'erano banale volanti. Mi arriva da ridere. In giacchiappe scape può succedere di vedere banale volanti. o no? E dai. Vai sopra. Sì. Ah, a proposito. C'è un mio amico che ha pescappe due. Quindi quando approfitto la serie di pescappe tre, farò anche due. Prende. Prende. È un mio amico. La simbia zucca. Mh. Quanta acqua. Questo qua è il cassero del ponte Dracula. C'è una videocamera. C'è una videocamera. Vediamo un po' che cena si capita. Per favore. Non fa favore per niente. Non fa favore. Non fa favore per niente. L'altro no, dire che è rimbambito, e insomma, formati, un po' veloce, ma no, abbastanza, per sfuggirmi, ecco la simia con la motosega, no, no, una motosega, tipo finta, di legno, ok, allora apriamo il passaggio segreto, posizionando, appunto, questi brocchi, queste bare, quello che è, che è la tomba, si aprì, non bisognava di continuare a dormire, no? una munghia, c'è un'altra munghia, ecco la che devi fare fuoco, come è vero, è questo, è finito, e a che livello? Quattro! 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 Ok, ora c'è il vecchio West Satoru, un attimo di attenzione, sto per inserire i dati di una nuova identità nel tuo trasformologio, ti presento il cowboy solitario Sì, 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 ho capito Ragazzi, quanto è noiosa Come se io non sapessi giocare a questo gioco, insomma Che bello Questa musica, bellissima Ecco, già mi hanno notato quella figlia lì Oggi sarei lontana Bene, usiamo il cowboy solitario Fermo lì Dove c'è di andare? Bene, catturato in rete E' morto Stavo iniziando così bene Ok, adesso mi vendico Vieni qua Ma come oggi E' catturato Signo maleducata Un po' signo e quattro roba Vabbè Vabbè, guardo un pochino al salino Proprio non c'è la formo Salve, volete avere? Ah no, occupato, vabbè Allora vi ammatti tutti Vabbè, oppure ho ammazzato Catturato 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 Bene, ho catturato Sim the Kid Tu a quando ti è giocare Il corpo Ho catturato Ve Il corpo Quanti Non La Vai E' Lo Ai Vai K Well Ha Non prevention Bene, ha scaturato il magliazzo Ok, e ora Al treno Oh oh, malini Noi, sono un po' problemati, sono tutti io Bravo, eh, neanche un big Ecco un altro barriaggio Preso Bene, e l'altra è la stazione Ah, c'è già un assegno, perfetto E' un no tv Ecco il treno Questo bambino vuole affinare il treno Ma io devo andare in più dito Ok, rimangono ancora 5 E poi non c'è nessuno, quindi saliamo sul treno Mi abbassa così non mi vede Un primo piano Azione E' di credo Cosa dovrebbe cambiare E' presa Eh, però brava Fai una capriola colomborendo Eh, voglio Ah ah Il treno e mangi una scondiglia non è bastato Che ho preso è molto veloce Ok, ancora 3 Qui tutto libero Ah, un altro barriaccio Cazzolato Quindi qualcuno Non si sa mai Eh Guarda dai Che era sposto Nel buco del treno Beh, dovrai accendere la fumicata Ah, uh, lì proprio Ok Vado a prenderla Ah ah, non hai scappo Cavolo, non posso farigli Beh, allora va davanti Al canyon Eccola lì Non è vero saltare Se ti rendi la vita Questa è per te Ok, a presto Vai, che attavuglio Beh ragazzi Adesso Adesso Si scontriamo Con la figlia Bru Si, parte A me Io credo Il video di bellezza Questo è Stai forse cercando me Figlio Faresti meglio A smetterla Di giocare all'uscita Perché io sono La pistola Più veloce Del best Ah sì E chi lo dice Oh Non mi credi Ragazze Se ti sconfigo Io mi trasformerò In un vero e proprio ero E così Chiederò a Rosa Di uscire Insieme a me E poi Ragazzo Questo è un duello Quando la musica finisce Comincia il nostro scontro Che ci siamo Il regolatore Del pistolero Del best Transformazione Ah no Do it Di uscire A dibu Frog Che c'era Sì Di uscire Tad Sì Così E Sì 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 è finita la durata al mio via 3, 2, 1, via! è tutto qui, vedo che vi sia da buona via, peccato il tuo tempo è scaduto il mio via 3, 2, 1, via! il mio via 3, 2, 1, via! il mio via 3, 2, 1, via! il mio via 3, 2, via! il mio via 3, 2, via! il mio via 3, 2, via!